Due minorenni sono stati denunciati a piede libero per l'accusa di ricettazione, dopo essere stati sorpresi dai poliziotti delle volanti a bordo di un ciclomotore rubato. Gli agenti hanno fermato i due ragazzi nel corso di un controllo, dal quale è emerso che uno dei due aveva con sé un coltello e un piccolo quantitativo di stupefacente per uso personale. Per quest'ultimo dunque è scattata anche la denuncia per porto abusivo di coltello, oltre alla segnalazione come assuntore. I due giovani hanno spiegato agli investigatori che il ciclomotore gli era stato prestato da un conoscente. Saranno adesso le indagini coordinate dalla procura dei minori a chiarire tutti i dettagli.